Noi non ne abbiamo più, abbiamo detto presentiamo tutti gli emendamenti, poi apriamo la discussione sugli emendamenti e sul bilancio e poi poniamo in votazione prima gli emendamenti e poi il bilancio. Come Lega Nord Malnate abbiamo presentato 4 proposte di emendamento, 3 con piccole varianti che tendenzialmente hanno lo scopo di dimostrare che attraverso piccoli risparmi e senza quindi alterare il progetto politico di questa amministrazione c'è la possibilità, quindi ribadisco senza tagliare nessun servizio ma semplicemente attuando dei virtuosismi, di realizzare degli interventi di varia natura. Mentre l'ultimo è un emendamento un pochino più complesso e lo vediamo dopo. Allora, emendamento numero 1 con una motivazione e sicurezza subito. Come dicevo abbiamo cercato appunto di presentare questi emendamenti cercando all'interno del bilancio una copertura finanziaria senza però andare a stravolgere quella che è la vostra volontà politica. In questa motivazione sicurezza subito, visto anche il voto unanime della mozione relativa alla sicurezza per l'attraversamento di via generale Ravina all'altezza della scuola materna Frascoli, si auspica appunto che tale emendamento possa riscuotere parere positivo. Io ho fatto pervenire all'amministrazione un preventivo da parte di un installatore. Come dicevo io, per verificare la fattibilità tecnica di questa soluzione, ho cercato su internet e il primo installatore di semafori che si è reso disponibile e che mi ha risposto, abbiamo fatto un sopralluogo insieme per verificare se ci fossero i requisiti tecnici di sicurezza per poter applicare, instaurare, installare un semaforo a richiesta. Quindi a richiesta significa che c'è il bottone quando c'è la necessità di attraversare il semaforo da lampeggiante, o spento dipende come lo si vuole lasciare, semaforo comunque da lampeggiante scatta rosso. Quindi la fattibilità tecnica c'era, mi è stato fatto un preventivo per capire le possibili soluzioni tecniche, questo preventivo è stato consegnato all'amministrazione comunale unitamente a una ipotesi di spesa, chiamiamola così, forfettaria che potrebbe essere ipotizzata per quelle che sono poi la messa in opera, quindi le opere murarie e l'allacciamento. Quindi questa ipotesi di spesa per questo impianto semaforico chiamata pedonale, parliamo di fornitura, impianto e posa, è quantificabile con la cifra di 10 mila Euro. Per arrivare a una copertura, quindi per mantenere gli equilibri di bilancio, i soldi che come Leganord avevamo pensato di spostare sono ripartiti in questi capitoli, allora il capitolo 2.2 che è quello relativo alle spese di funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Il richiesto, cioè quello che la Giunta, l'amministrazione ha richiesto per l'anno 2012, equivale a un importo di 36 mila Euro. L'assestato invece, quello che abbiamo evidenziato noi è che l'assestato del 2011 è pari a 27.394, che è una cifra che comunque è in costante crescita nel tempo e si riferisce prevalentemente ai rimborsi per i lavoratori dipendenti. Su questo, a nostro giudizio, visto che è presente all'interno della Giunta, è venuta a mancare la figura dell'assessore al bilancio per x mensilità, significa che in questo capitolo è previsto un risparmio. Quindi fisicamente l'importo che veniva erogato all'assessore Viscardi che si è dimesso, va a creare comunque un risparmio. Inoltre, considerato che il numero dei consiglieri e degli assessori è recentemente stato ridotto per legge, si ritiene che tal importo possa essere rivisitato, per cui con una variazione abbiamo proposto noi di meno 5 mila Euro. L'altro capitolo che siamo andati a evidenziare è il 33-5 che si riferisce alle spese postali, telegrafiche e telefoniche. Il richiesto per l'anno 2012 è pari a 44 mila Euro. L'assessato, siamo andati a verificare che l'assessato del 2011 è pari a 42 mila Euro, però in virtù di due fattori. Uno è che abbiamo recentemente istituito una nuova forma di convocazione attraverso PEC che questo darà di sicuro spazio a dei risparmi. Questa PEC è una forma di corrispondenza tramite gli amministratori, per cui comunque è una forma di risparmio prevista in questo ambito. Un'ulteriore idea nata era quella di ammodernare l'impianto telefonico. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una possibilità tecnica di inserire un sistema VoIP, ovvero un sistema che permetterebbe anche qui di tagliare dei costi. Cosa succede? Che parlando con il sindaco era emerso che tecnicamente questa soluzione penso attualmente o non ho capito, tecnicamente comunque per l'ente Comune di Malnate non è attuabile. Ciò non toglie però che il sindaco proprio durante una commissione bilancio ha dichiarato di aver dato disposizione agli uffici comunque di sostenere dei virtuosismi proprio a livello personale per cercare di contenere se non addirittura di ridurre la spesa. Per cui con questo principio di andare a ridurre la spesa e l'attuazione comunque di un sistema di comunicazione attraverso PEC, visto anche che questo capitolo aveva comunque un importo inferiore per l'assestato del 2011, si ritiene che 4.000 Euro sono i 2.000 richiesti in più, più 2.000 di virtuosismi possono essere sufficienti per non alterare l'impostazione scelta dall'amministrazione. Inoltre sul capitolo 335-4 relativo alla città dei bambini c'è un importo richiesto di 8.000 Euro che presumibilmente dovrebbe riferirsi all'acquisto di beni, su questo acquisto beni pensiamo che comunque una variazione di 1.000 Euro vista l'entità del progetto possano essere tranquillamente tolti per questo progetto per essere impiegati per la sicurezza, visto che comunque questo progetto fa parte di un bando ma questo bando prevede anche dei costi figurati, quindi comunque si possono tranquillamente cambiare gli equilibri, 1.000 Euro non fanno la differenza all'interno del bando, quindi 5.000, 4.000 e 1.000 mantengono gli equilibri di bilancio per la spesa dei 10.000 Euro. Passo all'emendamento 2? Il secondo emendamento come motivazione è insufficiente dotazione, presente emendamento come il precedente ha lo scopo di dimostrare che attraverso piccoli risparmi senza quindi alterare il progetto politico di questa amministrazione c'è la possibilità di mantenere alcuni servizi culturali. I due capitoli che noi andremo a rimpinguare sono il 308, l'acquisto di libri per la biblioteca con 3.500 Euro e il 335 barra 3, ex 335 barra 3, marketing del territorio con 3.000 Euro. Cosa succede a questi due capitoli? Che il 308 relativo all'acquisto di libri per la biblioteca ha un richiesto da parte dell'amministrazione comunale per il bilancio di previsione 2012 di 6.500 Euro. 6.500 Euro sinceramente sono un po' pochini secondo me per un comune centrosistema. Diciamo che questo capitolo che ai tempi era un pochino più ricco è stato tagliato con l'accetta ai tempi del commissario quando doveva in qualche modo far affronte a delle spese. Però direi che ad oggi con le nuove tasse che sono state introdotte dell'Imo, dell'Irpef e con il fatto anche che comunque il sistema di mannate è a centrosistema, secondo me un segnale di questo tipo di nuova partenza secondo me è importante. Anche perché se non erro durante la presentazione del bilancio di previsione l'assessore alla cultura ha detto che avrebbe voluto aumentare questo importo, che poi in realtà invece l'ho visto fermo al palo. Quindi con queste motivazioni sinceramente manca, vediamo che manca un pochino la volontà politica di promuovere la cultura. È vero che la coperta è corta, perché la coperta è sempre corta e il primo a restare scoperto è la cultura, si sa, perché non si possono, come ho già detto in Commissione, è vero che non si possono tagliare servizi prioritari per i cittadini, soprattutto sul sociale, però è anche vero che attraverso questo emendamento noi dimostriamo che di sociale non tagliamo niente, semplicemente andiamo a ripartire meglio i soldi presenti nel vostro bilancio. Spero che non mi si venga a dire che i soldi non ci sono, li abbiamo messi su altri capitoli perché è qui da vedere che la possibilità di mettere i soldi sulla cultura ci sono. Un altro intervento da fare è quello sul capitolo ex 335-3 che è quello del marketing del territorio. Sinceramente non ho capito come mai questo progetto del SIC e delle scuole in carrozza sia stato depennato dal vostro bilancio, anche perché era un progetto come si dice pronti via, dove c'era stato fatto un grande lavoro di back office, era tutto pronto, era un progetto pronto e volevo, ho portato anche come vi dicevo in commissione, questo progetto vanta numerose collaborazioni, così vi racconto esattamente. Allora, il SIC nasce come un progetto decisamente complesso, mi preme ricordare tutti gli operatori che hanno contribuito alla riuscita di questo progetto, oltre naturalmente alla parte politica, c'è stato un grandissimo lavoro da parte degli uffici comunali, dello staff del museo civico Mario Realini di Varese Europea e del museo di Stabio, intesa come parte politica, curatore del museo e uffici amministrativi, il plis dell'Ansa con le GEV, il mulino Bernasconi, il treno della Valmorea con il club di San Gottardo e i nostri radis, il provveditorato agli studi di Varese, il provveditorato ticinese, la provincia e la fondazione comunitaria del Varesotto. Questa, gita di un giorno, nata con lo scopo di far conoscere il nostro territorio, in primis ai nostri ragazzi e in seguito a tutte le scolaresche interessate. La cultura, infatti, passa attraverso la conoscenza e far conoscere il nostro territorio e i nostri ragazzi è il primo modo per salvaguardarlo. Il parco, la flora e la fauna, con le cave, il treno e la sua storia, il mulino ad acqua, uno dei pochi ancora attivi nella zona, due musei civici finalizzati alla conoscenza della storia locale. Grazie alla Convenzione Convarese Europea si è potuto garantire un biglietto a prezzo calmierato, eppure ad inizio anno ho visto che la Convenzione Convarese Europea è stata, spero solo momentaneamente, congelata. E di questo comunque me ne rammarico, il progetto piaceva e ha riscosso tanto successo e tanti apprezzamenti. Anche quest'anno c'è stata richiesta, però le maestre hanno deciso di fare altre gite in paesi vicini, perché non c'era più l'organizzazione che gestiva il tutto e quindi le maestre si sarebbero dovute sobbarcare il coordinamento dell'intera giornata. Attività non così scontata e soprattutto il prezzo dell'intero pacchetto che senza ammortizzatore risulta poco competitivo. Mi preme sottolineare la diversità di trattamento che questo progetto ha ricevuto sui due lati del confine. Qui è malnate questa amministrazione, l'ha gentilmente cestinato. In Svizzera invece è stato portato al convegno di Mediamus nel canton Grigioni, dal titolo Il potenziale della mediazione culturale nei piccoli musei, ed è stato portato ad esempio come forma di mediazione culturale tra stati. L'organizzazione del convegno si fonda infatti sulla convinzione che i piccoli musei possano avere un grande futuro se sapranno cooperare fra di loro e con il loro ambiente circostante. Spesso ci si riempie la bocca di stereotipi sulla cultura e poi davanti ad una progettualità forte come questa ci si spaventa per mettere a bilancio i soldi necessari. E' questa una cultura sostenibile che avete in mente? In questo bilancio di spiesa altissima non vedo grossi tagli, vedo solo tagli strumentali. Questo l'avevo scritto per il precedente consiglio che poi è saltato. Il principio vale, non vedo grandi differenze da settimana scorsa a questa, nel senso che questo è un progetto che mette insieme diversi elementi, la cultura locale, il patrimonio naturalistico, il nostro parco che abbiamo, la scoperta dei nostri fornitori, collaboratori, patrimonio artistico storico, la scelta di far andare i nostri ragazzini a conoscere il nostro territorio. Sono tutti elementi che hanno lo stesso peso e la stessa importanza. Non capisco come mai su altri fronti c'è stata una volontà di collaborare come ad esempio il Festival Frontiere Letterari. Su questo invece c'è stato un colpo di spugna senza nemmeno confrontarsi per capire quali sono le problematiche che stanno sotto a questo veramente un colpo di spugna è stato. Quindi su questo vi invito veramente a riflettere perché secondo me questo progetto non merita di morire così, soprattutto in vista anche di tutte le persone che hanno lavorato veramente per la riuscita di questo progetto, ma soprattutto per i risultati ottenuti, per i risultati visto che quest'anno ribadisco c'è stata ancora domanda. Quindi queste variazioni di 3.500 Euro più 3.000 Euro sono 6.500 Euro. Questi 6.500 Euro per trovare la copertura finanziaria per mantenere gli equilibri di bilancio li abbiamo identificati all'interno del capitolo 1 barra 1 indennità di carica con un richiesto di 52.000 Euro. Anche qui vige lo stesso principio, visto che è venuto a mancare, non nel senso che è morto, ma che è momentaneamente venuta a mancare questa figura dell'assessore al bilancio per diversi mesi e quindi un dato di fatto che non c'è, è realisticamente un dato di fatto che comunque una copertura finanziaria lascia comunque lo spazio a dei risparmi. Questo è il primo principio. Il secondo principio è che in tempi non sospetti gli attuali amministratori parlavano di essere pagati in proporzione ai risultati e a questo punto mi sento legittimata a fare questo affronto, questa sfida. Avete tolto un progetto, un progetto che funzionava, che andava bene, quindi davanti a una progettualità che è venuta a mancare, a questo punto volete fare gli stipendi partecipati, chiamiamoli così. Allora togliamo una quota di questi stipendi, visto che non c'era niente da fare, c'era solo da mettere una firma su un foglio e dire ok, questo è un progetto buono, portiamolo avanti. L'altra parte è una cifra simbolica perché sono solo 500 euro, però sul capitolo 1-3, indennità di missione al sindaco, assessori e consiglieri, c'è un richiesto di 1000 euro. Anche qui l'assessato del 2011 pare a 3300 euro, però c'è uno storico che bisogna spiegare. Cosa succede? Succede che c'è stato un commissario e da questo capitolo il commissario pescava le sue risorse per gestire quella che era la sua attività. Se andiamo infatti a vedere l'assessato del 2009, quello che veniva proposto su questo capitolo erano 500 euro, un rimborso minimo proprio in caso di spese. Tornando al discorso che è al principio, che comunque ci sono meno assessori, meno consiglieri, quindi dal 2009 ad oggi non capisco perché bisogna passare da 500 euro a 1000 euro, quindi sinceramente i 500 euro stanziati nel 2009 ritengo che siano più che sufficienti. Quindi con queste due cifre del capitolo 1-1 e del 1-3, in questo modo questo emendamento mantiene negli equilibri di bilancio. La motivazione di questo emendamento è insufficiente dotazione. anche qui vige lo stesso principio che si vuole dimostrare che attraverso piccoli risparmi e attuando di virtuosismi c'è lo spazio all'interno del vostro bilancio di dar maggior sostegno alle nuove povertà causate dalla crisi internazionale e dall'augmento incondizionato del costo della vita. Ecco anche qui una cosa che non ho capito è come mai quando il sindaco, allora consigliere di minoranza, quando sedeva tra i banchi della minoranza e la maggioranza di Damiani aveva proposto di fare questo fondo, quando avevamo proposto di fare questo fondo per le nuove povertà, l'allora assessore Nelba aveva stanziato 30 mila Euro, di cui alla fine se non ricordo male sono stati realmente, oggettivamente consegnati nelle tasche dei cittadini 10 mila Euro. Quando il sindaco siedeva nei banchi dell'opposizione, mi lantava crisi, 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 diceva no questo fondo non è sufficiente, 30 mila Euro non sono sufficienti, mettiamone 80 mila, perché la crisi diventerà sempre più profonda, più grave, adesso ci siamo, siamo come si dice al fondo, stiamo raschiando il barile eppure questo fondo per le nuove povertà è magicamente scomparso, quindi se prima c'era la crisi, adesso probabilmente non si sente più l'esigenza di aiutare le persone che in via eccezionale, perché qua stiamo parlando di persone che in via eccezionale possono avere delle difficoltà, non stiamo parlando di chi ha un rapporto di dipendenza costante con l'ente o con i servizi sociali, stiamo parlando di persone che proprio a causa della crisi non riescono a gestire quelle che sono le loro difficoltà economiche. Quindi per poter istituire questo nuovo capitolo definito nuove povertà, che noi andremo a quantificare con un importo di 45 mila Euro, abbiamo pensato di recuperare i soldi da questi capitoli. Allora, il capitolo 42 relativamente all'acquisto di giornali, riviste e abbonamenti prevede una variazione di 2 mila Euro, cosa significa? Significa che da un richiesto di 7 mila Euro secondo me ci sono i margini necessari per passare gran parte degli abbonamenti che l'ente ha con diverse riviste, passare dal formato cartaceo al formato elettronico, quindi questo cosa significa per i sostenibili, una forma di risparmio per l'ambiente, meno smog, meno inquinamento, meno carta ma soprattutto soldi da liberare per il capitolo delle nuove povertà. Per i capitoli 32 relativamente alla voce di 10 mila Euro di inventario e 15 mila Euro per il controllo di gestione, ritengo che queste spese, ribadisco, a fronte di una crisi attuale, concreta e tangibile, possano tranquillamente essere presentate o in altra forma, quindi attraverso le risorse interne di cui l'ente dispone, oppure riproposte più avanti. Non sono questi incarichi che andranno presumibilmente a dei professionisti che cambiano le sorti dell'ente. Altro capitolo dedicato agli incarichi, il capitolo 72, 10 mila Euro, anche qui, questi sono incarichi, credo che il 72 e il 370 barra 2, sono uno legato agli incarichi del PGT, 15 mila Euro, quindi oramai il PGT, visto che dicevate che non avevate niente di importante da rivedere sul PGT, si possa rivisitare e anche gli altri incarichi relativi all'ufficio tecnico si possa tranquillamente ridimensionare. Inoltre per il capitolo 335 barra 3, quello della città dei bambini, anche qui c'è un richiesto di 41 mila Euro, vale come sopra, tra virgolette, vale per l'emendamento numero 1 in cui si parlava del progetto città dei bambini, anche qui c'è un discorso di costi figurati che secondo me può tranquillamente andare a sopperire questa variazione di 3 mila Euro che abbiamo proposto. Il quarto emendamento invece ha un'altra struttura, quindi mentre questi erano legati a piccoli spostamenti, a piccoli prelievi fiscali, questo invece ha una motivazione diversa, diversa perché ci sono diverse cose che non abbiamo gradito nella formulazione del bilancio di previsione di questa maggioranza, uno su tutti il fatto che non ci sia stato in quest'anno un lavoro di ricerca o di formulazione di una qualsivoglia forma di prevenzione o di lotta all'evasione fiscale, non c'è se non per i vecchi importi che stanno rientrando per quello che era forse lì se non sbaglio, era qualcosa ma di vecchio che sta comunque finendo il suo corso, non c'è una voce, non c'è un impegno politico per una lotta all'evasione fiscale e quindi quello che non ci piace è che la pressione fiscale verte sempre sulle stesse persone, va sugli onesti, va sulle persone che pagano, che sono una fonte certa di entrate e quindi si va a pescare sempre dalle stesse persone e questa è una cosa grave da una giunta di sinistra, che non c'è la lotta all'evasione fiscale, molto grave secondo me e noi abbiamo nel nostro emendamento con questa motivazione abbassamento pressione fiscale perché non è giusto che siano sempre gli stessi a pagare, abbiamo messo un importo di 100.000 euro per la lotta all'evasione fiscale, domanda, è stato fatto qualcosa? C'è qualche voce a bilancio per l'evasione fiscale? Io non l'ho trovata. Un'altra voce è quella dell'alienazione dei beni pubblici, quindi in questo caso ho segnato vendita dai locali della farmacia ma non solo, ci sono terreni, ci sono altri eventualmente piccoli immobili che in questo momento possono creare quella liquidità necessaria all'ente per far sì che il prelievo non venga fatto sempre sulle stesse persone. Inoltre l'addizionale IRPEF progressiva, questo forse per voi è la parte più dolente perché per combattere questa IRPEF che non avete voluto in forma progressiva per strada vi siete persi un assessore, che poi l'avete voluto perdere o l'avete voluto accompagnare alla porta, questo sono affari vostri e un altro discorso, però sinceramente mi sento di dire che politicamente l'ex assessore è uscito bene, è uscito a testa alta, è uscito come uno che ha sostenuto gli interessi della popolazione, non gli interessi di una maggioranza. Attenzione, voi stortate il naso, però voi allora a parte del PD non ho sentito grandi relazioni, però le liste civiche mi hanno motivato questa scelta dicendo noi in questo momento non ci sentiamo di applicare un'addizionale IRPEF progressiva perché vogliamo prima studiare quello che è un quoziente familiare. Allora domanda 1, cosa avete fatto in quest'anno? non l'avete studiato? Non c'è niente, un anno perso. 2, volevate applicare questo concetto del quoziente familiare? Mi sta bene, è legittimo, però questa era un'opportunità simbolica per alleggerire il prelievo fiscale dalle fasce medio-alte, andando a colpire quelli che sono, quelli che hanno un reddito superiore, penso ai 50-70 mila euro. E qua si aprono due interrogativi, allora 1, perché non avete voluto fare questa cosa? Il quoziente familiare comunque non è che risolverà magicamente questo problema, il quoziente familiare anche se deciderete di applicarlo l'anno prossimo, comunque avrà un costo, è alto. Allora il quoziente familiare porterà un costo, quindi avete un'idea di cosa vuol dire questo costo rispetto ai soldi che quest'anno non avete chiesto, quest'anno che probabilmente anche l'anno prossimo andrete a chiedere ai cittadini, il quoziente familiare va studiato, il quoziente familiare comunque permette, anche senza applicare già quest'anno il quoziente familiare, c'era la possibilità di far risparmiare dei cittadini. E allora domanda, perché no? Perché no? Chi state difendendo? Chi state proteggendo? Come avrebbe detto Paganini ai bei tempi gloriosi in cui sedeva nei banchi dell'opposizione ed era grintoso, cosa c'è sotto? Con i diritti con i diritti. Cosa c'è sotto? Perché avete sacrificato un assessore e l'avete mandato a casa per non applicare una addizionale IRPEF progressiva che permetteva veramente di far risparmiare al centro medio basso? Voi dite simbolica, va bene, ma anche simbolico il taglio degli stipendi degli amministratori, non è che con il taglio degli stipendi dell'amministrazione sia risollevata la finanza dell'ente, è stata una scelta simbolica, bene l'avete fatto, bravi, vi stiamo dicendo che c'era la possibilità di fare un'altra operazione simbolica, di far risparmiare anche solo un euro al centro medio basso, quell'euro di farlo pagare al centro alto, perché no? Questo è grave secondo me. Un'altra cosa che mi tocca sempre chiamare in causa l'ex assessore, ma ha scritto una cosa nella lettera delle sue dimissioni che mi ha agghiacciato, ha scritto io me ne vado perché serve un'operazione di sinistra, ma nate ha terribilmente bisogno di un'operazione di sinistra, poi politicamente non state facendo quello per cui siete stati eletti, non state facendo quelli di sinistra che aiutano al centro medio basso, e questa è la cosa triste di tutta questa vicenda, avete tradito il voto dei vostri lettori. Poi, detto questo, riduzione neve da 80.000-50.000 euro, anche qua è vero che non si può prevedere un discorso di meteo, però ci può stare, ci può stare nel senso che comunque non era una cifra così eccessiva, era comunque una forma di compensazione. Inoltre stiamo parlando di un'altra voce che è quella del 3%, quindi una riduzione netta. Come vi dicevo prima, già dei precedenti emendamenti, c'è una spesa pubblica più alta, c'è una spesa pubblica superiore, superiore a quella dell'assestato 2011. Perché? Perché se c'è crisi, tutta la crisi che c'è e poi c'è una spesa pubblica più alta? Questa è una voce che veramente bisognerebbe comprenderla. Inoltre, noi come Lega Nord abbiamo chiesto in tempi non sospetti che ci fosse una formulazione dell'aliquota IMU sulla prima casa allo 0,2. Visto che non siamo riusciti a portare a casa questo 0,2, ci riproviamo con lo 0,4. E quindi una differenza, una rimodulazione diversa di quello che è l'IMU da 0,56 allo 0,4 permetterebbe quindi di avere attraverso questa differenza tra le due aliquote una voce a disposizione per l'IMU. Per l'IMU chiamiamolo seconda casa o altre destinazioni. Un'altra voce che non abbiamo gradito è che tra le altre destinazioni c'è un'aliquota altissima relativa a quello che sono i commercianti. Quando la precedente amministrazione ha individuato delle soluzioni per i commercianti, anche lì sempre qualcuno in minoranza diceva che queste soluzioni non andavano bene. Ad oggi però all'interno di questo bilancio non vediamo un grande impegno per i commercianti. Ricordiamo che la crisi colpisce anche i piccoli commercianti. Quindi diciamo che questi risparmi che si possono attuare attraverso maggiori entrate e riduzioni delle spese sono quindi destinabili a un'aliquota IMU sulla prima casa più bassa e quello che rimane è la differenza è a disposizione per abbassare l'aliquota dei commercianti. questo è quanto. Grazie al consigliere Cassina. Apriamo a questo punto la discussione sia sugli emendamenti che sul bilancio. La parola al consigliere Barel che si è prenotato. Non era un emendamento, era una relazione al bilancio. Nel suo intervento politico relazionerà rispetto alla posizione. Buonasera, grazie Presidente. Prima di aprire la bagarre vorrei ricordare il carabiniere che è morto oggi in Afghanistan, se me lo consentite, perché credo sia un atto doveroso, visto che è andato lì con la faccia di tutti noi. Grazie. No, è vero, mi scuso, ho sentito oggi al telegiornale, poi andando al lavoro mi è completamente uscito di testa e purtroppo ha fatto bene a ricordarmelo, anche perché il nome non l'ho sentito, mi sarei informata ma oggi è molto stato al lavoro, quindi chiedo un attimo, possiamo fare adesso un minuto di silenzio, un minuto di silenzio per il carabiniere. Grazie. 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 Scusi un secondo, consigliere Barri, rispetto, no come metodo, leggiamo prima l'ammissibilità degli emendamenti così vediamo subito poi la discussione su che cosa potrà... Si, si, si. Ok, grazie. Sarà molto breve, intervererò invece poi sui contenuti più avanti, nella sostanza i primi tre emendamenti, quelli che la consigliera Cassina definiva come piccoli emendamenti, sono tutti e tre ammissibili, subordinati evidentemente all'accoglimento non soltanto delle maggiori spese ma anche delle minori entrate con un punto di attenzione sottolineato dagli uffici che ringrazio ancora per il grande lavoro che hanno fatto sul secondo emendamento dove la variazione di 6 mila Euro non si riesce a giustificare esclusivamente con l'assenza all'interno della giunta di un assessore che non ha un valore di 6 mila Euro come da lei indicato all'interno del secondo emendamento ma ha un valore di 2 mila e 700 Euro considerando il periodo maggio-dicembre, quindi evidentemente se questo emendamento fosse votato ci vorrebbe sullo stesso capitolo una ulteriore riduzione. Invece per quanto riguarda il quarto emendamento, il quarto emendamento invece non è ammissibile, non è ammissibile perché nella sostanza le voci più importanti sono quelle legate all'utilizzo di cessioni di immobili per un totale di 415 mila Euro che evidentemente non entrano all'interno del titolo primo, quindi non possono essere utilizzate per abbattere le spese correnti e quindi utilizzarlo come è stato fatto sull'abbattimento dell'eliquote IMU e la stessa cosa per l'indicazione assolutamente generale e non contestualizzata di una riduzione del 3% lineare su tutte le spese. E' anche sottolineato un altro punto di attenzione che è quella legata alle spese sullo spazzamento neve dove in realtà noi a oggi abbiamo già speso più dei 50 mila Euro che venivano indicati come nuovo stanziamento per il capitolo 621 per l'appunto. quindi nella sostanza i primi tre emendamenti con quell'attenzione che ho sottolineato sul secondo sono ammissibili mentre il quarto non è ammissibile quindi non verrà messo in votazione. Grazie al Sindaco. Qui si parlava di ammissibilità tecnica ovviamente. Invece è ammissibile quello presentato dai tre gruppi consigliari di maggioranza invece è stato dichiarato ammissibile da parte degli uffici.